Finisce il sogno di Luna Rossa in America's Cup. Ines Britannia si aggiudica la Louis Vuitton Cup vincendo anche l'undicesima regata della serie con una grande dimostrazione di forza. La barca italiana in svantaggio 6-4 può solo vincere per tenere in piedi la finale, ma anche stavolta, nonostante un approccio grintoso, si fa beffare in partenza dagli inglesi. Come è accaduto già nelle regate di ieri, Britannia può controllare la situazione scegliendo le traiettorie migliori e mettendo in difficoltà Luna Rossa. L'equipaggio italiano comunque non molla, resta in gara, ma è sempre costretto a inseguire. Soltanto dopo la metà del percorso gli inglesi hanno una leggera incertezza e Luna Rossa riesce a avvicinarsi moltissimo, creando i presupposti per un attacco. Gli avversari però reagiscono immediatamente, non sbagliano nulla e restano davanti con sicurezza. Gli ultimi due lati del percorso sono una dimostrazione di forza di Britannia, con Luna Rossa che si gioca alle ultime carte per recuperare, ma senza riuscirci. Grande delusione nel team italiano con la consapevolezza di aver dato il massimo al netto dei problemi di affidabilità della barca che hanno penalizzato alcune regate della serie finale. Festeggia dunque Britannia che adesso andrà a sfidare Team New Zealand nella finale dell'America's Cup. Una sfida di altissimo livello da seguire dal 12 ottobre alle 14 ancora live su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it.